Sentiamo Favia che sta chiedendo tre esempi molto interessanti. Uno l'ha fatto sui cavatori. Velocemente perché siamo pieni di punti e di azioni che facciamo nelle istituzioni sul territorio. I oneri per le concessioni per levare l'acqua, per imbottigliare, siamo passati a quello. Io ho fatto i conti in regione, non ci paghiamo neanche i dipendenti, gli impiegati che raccolgono, che gestiscono a livello amministrativo queste estrazioni. Le acque minerali? Sono incentivate e sappiamo che i problemi creano a livello anche di produzione di rifiuti. Cioè si regala l'acqua ai privati, vogliamo dirlo così? Si regala l'acqua ai privati. Abbiamo fatto un emendamento nel bilancio d'assemblea per togliere il software proprietario, per fare le licenze open source. Abbiamo avuto un grandissimo risparmio. Quindi noi ci leggiamo i conti, prendiamo dei tecnici, mettiamo le cose in rete, facciamo delle proposte. Sentiamo subito la legge di Girolamo su questo. Cioè Favia sta dicendo che le leggi del centro-est e del centro-sinistra fanno guadagnare i privati. Prima di finire, le opere pubbliche vanno fatte, ne abbiamo tante da fare in Italia, dal mettere a norma le scuole che non sono una norma antisismica, la solarizzazione dei tetti, c'è tanto da fare i treni dei pendolari. Noi non dobbiamo fare le opere per il delirio di qualche amministratore, per le lobby con un pennarello su una mappa. Perché è questo la TAV. Dobbiamo fare delle opere a servizio del territorio, dei cittadini. A livello trasportistico la TAV non sta in piedi. Noi non siamo... Lo sa che pannelli solari costano 6 miliardi e mezzo ai cittadini in bolletta? No, le speculazioni. No, no, ma... Le speculazioni costano 6 miliardi. Mi spieghi la differenza? Però non facciamo tutto... Noi ne parleremo dopo, perché non riusciremo. Rispetto ad alcuni argomenti, mi sente? Sì, ora sì. Io capisco ciò che dice rispetto ad alcuni argomenti. Ovviamente ha un approccio locale, perché non stiamo parlando di vicende nazionali e quindi di legislazione nazionale, ma alcune cose di cui lui parla riguardano la realtà che rappresenta e quindi come le regioni, i comuni, i provinci ad alcuni problemi si approcciano. Il problema è che noi non facciamo le leggi per i privati, non le facciamo per i cittadini italiani e questo pregiudizio nei confronti di chi fa partito e di chi è eletto da parte vostra mi fa un po' sorridere, perché mi hanno sentito quel ragazzo, Mattia... Sentiamo su questo Mattia, che è stato chiamato in casa, ha parlato poco. Mattia, rispondi su Casaleggio e sul fatto che la De Girona dice è la cultura del paese, non siamo noi. Mi ricollego a un discorso e poi se volete rispondo alla domanda su Pisa Pia, su chi appoggiare al secondo turno. potrebbe essere un tema interessante proprio per dimostrare il quanto non siamo leader, siamo dei cittadini che fanno politica eletti ed è per questo che al ballottaggio abbiamo deciso di non sostenere nessuno, è una prassi dei partiti, perché un cittadino dovrebbe sentirsi dire da qualcuno chi votare di fatto. Ognuno può benissimo votare valutando i programmi e valutando il lavoro fatto in precedenza. In particolare, per esempio, mi piacerebbe parlare di quello che abbiamo fatto finora in Comune, giusto per almeno conoscere un po' del movimento. No, non parliamo però del Comune di Milano. Parliamo della Bolivia nazionale. In questo momento i telespettatori di Milano sono un po' preoccupati per altre cose sportive, purtroppo. Ma andiamo avanti. Partendo da alcuni punti che ci facevano insospettire durante la campagna elettorale di Pisa Pia. Di fatti partendo dalla trasparenza, dal consumo di zuolo e dalla gestione del bilancio, che sono stati, oltre al contrasto dell'andrangheta sul territorio milanese, alcuni dei temi principali di questi nostri quattro mesi. Per quanto riguarda il bilancio, abbiamo appena approvato le variazioni al bilancio 2011 e abbiamo fatto due semplici proposte, che di fatto non sono state bocciate. Uno, stop delle entrate straordinarie per la spesa corrente. Di fatto, qual è questa prassi ormai nei Comuni? Scadise, abbia pazienza. Non vogliamo interrompere, devono essere un po' dei temi generali. Cioè, sostanzialmente, lei sta dicendo che vi state occupando nel rendere più trasparente il bilancio di Milano e di come vengono spesi i soldi dei cittadini. Questo lei mi sta dicendo? No, nel cercare di invertire la tendenza che accompagna i Comuni ad indebitarsi fino al collasso. Però vorremmo che uno di voi rispondesse alle accuse anche che fa la De Girolamo per spiegare se è una balla o se è vero. Lei dice che non siete trasparenti come dite. Cioè, c'è un deficit... Avete paura. Posso aggiungere, perché ovviamente è uno dei temi che vi si pone, e cioè che c'è un deficit di democrazia in questo movimento. Perché non si... Esatto. È un'obiezione che anche sulla rete esiste. Quello che diceva prima la De Girolamo. Prego, Davide. Assolutamente no. In senso, noi mandiamo e cerchiamo di mandare in onda su web tutte le riunioni che facciamo. E io più che altro ribalterei la domanda, nel senso l'accusa, se vogliamo dire così. Nel senso, se si parla di mancanza di democrazia, forse chi ha un segretario di partito... Ma questo non l'ha detto lei, l'ha detto io. No, no, lo so. Non solo la De Girolamo, tutti gli altri partiti. Che decidono loro la lista dei candidati in Parlamento, decidono loro cosa votare. L'ha detto prima Calise. Succede anche da noi in Consiglio regionale, ma succede in Parlamento. Il capogruppo ha la Camera, immagino come fanno da noi in Consiglio. Ogni mozione, atto, legge, emendamento, dice votate sì, votate no. E tutti dietro votano sì, votano no. Senza possibilità di divergere da noi. Cioè vuol dire che anche la De Girolamo... Io non devo convincere Platerotti, quindi rimanga della sua idea. Chi è sui territori dove noi siamo entrati sa che noi viviamo una rete... Non mi deve convincere, che stai a fare lì? Posso... Sono qui a parlare ai cittadini e non a lei, quindi... Ma no, ma mi dovresti convincere. Sono stato invitato in questa trasmissione dal signor Telese... E da Porro. E da Porro. Con Davide Bono e Mattia Calise per parlare del Movimento 5 Stelle. Non sono venuto qui a parlare con Cirino Pomicino, condannato a 27 anni di politica, nemmeno con lei. Qui in un talk show con Pomicino vado al bar a parlarci. Se vengo a Roma voglio parlare ai cittadini di quello che fa il Movimento e di quello che è. Perché evidentemente non lo si vuole vedere. Noi non siamo associabili radicali. Perché noi, tecnicamente, non per propaganda, non siamo un partito, non siamo nemmeno un'associazione. Non abbiamo tesseramenti. Noi siamo un progetto, un'idea. Noi siamo lo spontaneismo al 100%. Ci incontriamo in rete, sui territori, ci vediamo, facciamo delle riunioni. Siamo sempre in strada. Siamo gli unici che raccolgono le firme, prendiamo i nottai, i messi comunali, chi deve venire, una per una, pulite. Ne prendiamo sempre di più di quelle che servono. Viviamo in strada e ci confrontiamo in rete. I due mezzi si integrano. Ma Giovanni, però... Noi decidiamo in un confronto trasparente e le liste verranno fatte da una moltitudine. Noi non siamo neanche il biologico, il pannello solare, quelle sono cose in cui crediamo. Ma noi come Movimento siamo un'altra cosa. Il superamento dell'ideologia non si ha né di destra né di sinistra. Siamo cittadini che portano la loro esperenzialità, la loro sapienza, la loro conoscenza. Ognuno porta la sua. Le mettiamo in rete come in un software e troviamo le soluzioni di buon senso. Non ci sono dogmatismi culturali. Siamo liberi. La parola più bella nel Movimento è libertà. Non abbiamo un grillo o chi che sia che ci dice cosa dobbiamo dire a casa nostra. Però il po' vicino chiede chi fa le liste. La moltitudine. Si vota. La moltitudine. Si vota. Ognuno vale uno. Io quando abbiamo scelto il sindaco di Bologna ad esempio, io sono andato in un'assemblea, ero consiglio regionale, mi sono messo in un angolo e ho fatto la mano come gli altri. In che partito capita questo? Allora c'è un testamento. C'è un testamento. C'è un testamento. C'è chi decide chi lanza la mano. Altrimenti la prossima volta arriveranno quelle del PDL a fare la vostra assemblea. Noi anche sulle modalità organizzative siamo a livello locale completamente liberi. Le posso raccontare l'esperienza di Bologna. Io sono prigioniero sul giudizio degli anni e sono stato prigioniero. Ma voi dite delle cose divertenti. Posso dire anche un consiglio, Andrea? No, no, no. Sto rispondendo per farle per... Dopo mi risponde. Dopo mi risponde. Noi, proprio per evitare di fare come i vecchi partitini, i verdi dove arrivava qualcuno comprava 50 tessere e si prendeva la sezione locale del partito, non abbiamo messo le tessere. Ma da noi vota chi partecipa. E in Audi diceva conoscere per deliberare. Allora non è che da noi vengono 50 che non abbiamo mai visto e votano. No, uno si integra, si rimbocca le maniche, si mette a fare i banchetti, dà il suo contributo e acquisisce il diritto di voto con la partecipazione. Giovanni, non pensa che però questo sistema, che più avrete successo e più sarà rischioso tenerlo in piedi... Difficile controllarlo. Ecco, la metto in positivo, non in negativo. Guardi, quando io mi sono candidato a Bologna, con il 0,9%... Noi l'abbiamo fatto come cittadini, per alzare la testa contro il sistema. Io non pensavo mica di essere eletto. Io non so dove sto andando. Il movimento è sempre... abbiamo cambiato 5 nomi. Anche Beppe. Beppe è una persona intelligente perché sa cambiare. E il movimento è in movimento. Chiarissimo, mi ha risposto... Vediamo la pubblicità, ma c'era questa insistenza, noi non siamo in blocco, noi stasciamo le vetrine. Che cosa pensa delle frange più violente del movimento che hanno in qualche modo messo in difficoltà anche gli indignati? Di che movimento? Perché la domanda è questa. Il movimento degli indignati, di Tuttenere, quello che è successo a Roma e anche in Val di Susa, dove c'è stata la guerriglia, nelle vostre manifestazioni. Allora, il 15 ottobre noi a Roma non c'eravamo. Nel senso come movimento noi non abbiamo partecipato. Infatti volevo rispondere alla Digirolamo dicendo che anche le nostre piazze sono bellissime, tranquillissime come quella che abbiamo fatto per il cosiddetto... Non era rivolto a boia. No, 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 ma per dire... I vooday, il cozzadei. I cozzadei, abbiamo fatto due vooday con 200.000 persone. Abbiamo fatto il cozzadei a Roma, in cui abbiamo portato simbolicamente una cozza in fila, in fila indiana a Roma fino sotto a Montecitorio. Non è successo nulla. Quindi si tratta anche di capire chi gestisce e come gestiscono le manifestazioni. Quindi tendenzialmente manifestazioni in cui non sappiamo quanta gente c'è, come viene gestita, non partecipiamo. Quella del 15 ottobre non voglio dare appunto di giudizi, perché non essendoci mi sembrerebbe... Si può dare un giudizio anche da fuori? Noi abbiamo fatto un ordine del giorno in Consiglio regionale, in cui abbiamo detto che comunque chiedevamo che non venissero strumentalizzate le dichiarazioni che sono state successivamente sui giornali, quindi la manifestazione stessa, perché il giorno dopo è stato detto ah, i notav erano presenti al corteo, addirittura quelli più violenti si sono addestrati in Val di Susa. Addirittura ha intervistato un signor sconosciuto chiamato F. dicendo che si era addestrato in Grecia in Val di Susa. Ma questo non è giornalismo, questo è riportare la prima opinione del primo pischello che passa senza nessuna credibilità. Quindi io dico solo e chiudo che secondo me c'è stato un grosso problema di gestione da parte del forzo dell'ordine... Avete visto quel cartello che ci fanno vedere a noi? Ma sentiamo Favia che sta chiudendo tre esempi molto interessanti. Uno l'ha fatto sui cavatori... Gli emendamenti... Velocemente perché siamo pieni di punti e di azioni che facciamo nelle istituzioni sul territorio. Gli oneri per le concessioni per levare l'acqua, per imbottigliare, siamo passati a quello. Io ho fatto i conti in Regione. Non ci paghiamo neanche i dipendenti, gli impiegati che raccolgono, che gestiscono a livello amministrativo queste estrazioni. Le acque minerali? Sono incentivate e sappiamo che i problemi creano a livello anche di produzione di rifiuti. Cioè si regala l'acqua ai privati, vogliamo dirlo così? Si regala l'acqua ai privati. Abbiamo fatto un emendamento nel bilancio d'assemblea per togliere il software proprietario, per fare le licenze open source. Abbiamo avuto un grandissimo risparmio. Quindi noi ci leggiamo i conti, prendiamo dei tecnici, mettiamo le cose in rete, facciamo delle proposte. Sentiamo subito la legge di Girolamo su questo. Cioè Favia sta dicendo che le leggi del centro-est e del centro-sinistra fanno guadagnare i privati. Prima di finire, le opere pubbliche vanno fatte, abbiamo tante da fare in Italia, dal mettere a norma le scuole che non sono una norma antisismica, la solarizzazione dei tetti, c'è tanto da fare, i treni dei pendolari. Noi non dobbiamo fare le opere per il delirio di qualche amministratore, per le lobby con un pennarello su una mappa. Perché è questo la Tav. Dobbiamo fare delle opere a servizio del territorio, dei cittadini. A livello trasportistico la Tav non sta in piedi. Noi non siamo ideologicamente. Lo sai che i pannelli solari costano 6 miliardi e mezzo ai cittadini in bolletta? No, le speculazioni. No, no. Le speculazioni costano 6 miliardi. Mi spieghi la differenza? Però fermi, non facciamo tutto. Noi ne parleremo dopo. Sentiamo la De Girono sul problema delle risorse. Gioia e Favia dice che sono regalate. Capisco ciò che dice rispetto ad alcuni argomenti. Ovviamente ha un approccio locale, perché non stiamo parlando di vicende nazionali e quindi di legislazione nazionale, ma alcune cose di cui lui parla riguardano la realtà che rappresenta e quindi come le regioni, i comuni, i provinci ad alcuni problemi si approcciano. Il problema è che noi non facciamo le leggi per i privati, non le facciamo per i cittadini italiani. E questo pregiudizio nei confronti di chi fa partito e di chi è eletto da parte vostra mi fa un po' sorridere. Come il Lodalfano, no?